impossibile ho messo le ganasce come si vuol dire non è più possibile ha messo i blocchi poi due bimbi vanno bene a posto i bimbi sono a casa in questo momento sono a casa con la tata perché erano impossibilitati a stare con noi che è successo che è successo siamo in clinica ragazzi non è successo niente siamo in clinica ci stiamo così mi fai gli occhiali ci stiamo clinicando ma non so non è un ospedale è una clinica adesso alessia vi spiegherà perché sta in clinica no alessia adesso lo deve spiegare perché sta in clinica ragazzi ve l'abbiamo fatta ora la diretta perché non c'è mai tempo di farla adesso non ci sono i bimbi non ci sono i bimbi ragazzi io le labbra ce le ho rifatte da sempre forse solo durante il trono monte non ce le avevo rifatte ma ce le ho sempre avute rifatte e sono cambiata la mano vi dovete preoccupare no 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 non è una cosa di preoccuparsi ragazzi non è niente io io mi devo preoccupare altra io per una questione di ma vaia eh lei dice che faccio sempre tirchio però non è vero mi ha fatto fatto un regalo altro un regalo con due fiocchi ragazzi no non vi spaventate si stanno spaventando è successo niente mi sono fatta le tette nuove niente hai capito cioè gli uomini adesso dico questa ma perché sono sempre arrabbiata sono sempre arrabbiata e triste ragazzi non sono mai né arrabbiata né triste se poi voi mi vedete arrabbiata e triste mi dispiace vi dico questo gli uomini possono dire quello che vogliono tanto vincono sempre e solo le donne no ragazzi è che dopo due bambini che ho allattato tutti e due dopo che ho perso diversi chili chiaramente la situazione a 26 anni era un po distrutta e così abbiamo riassestato il tutto ma non abbiamo fatto niente ha detto la verità nel senso non si è inventata niente no non c'avevo niente era un fattore estetico che a 26 anni era brutto da vedere capito e aldo deve niente ma non me l'ha regalato ma però non vi preoccupate non abbiamo fatto no che te che tettona ragazzi ma quando mai assolutamente abbiamo fatto una cosa che se uno non lo sa fondamentalmente neanche se ne accorge tra la differenza di prima e dopo no no assolutamente una cosa normalissima anche perché la prossima volta tocca a me devo rifarmi due tette da paura da paura proprio devo fare invidia fare le tette ti facciamo una sesta vabbè le nenne le nenne le nenne ando togliti la barba no la barba